Sono iniziati questa mattina a Gualdotadino i lavori di ripavimentazione di Corso Italia, l'ultimo tratto che verrà riqualificato dopo che il cantiere partito da Via Calai è arrivato a sua conclusione da rifatto marciapiedi e piano carrabile delle tre principali arterie che conducono in centro. Da qui il cambio di viabilità attivo da questa mattina e fino a conclusione dei lavori. Corso Piave è percorribile fino all'innesto con Corso Italia, da qui deviazione obbligatoria in Via Embriani. Via Storelli è percorribile in salita entrando dal lato giardini pubblici e uscita obbligatoria in Via Calai. Corso Italia è temporaneamente chiuso per consentire la pavimentazione del piano carrabile che verrà realizzato in pietra. Questo richiede più tempo del normale perché dopo la messa in opera delle pietre dovranno trascorrere almeno 20 giorni di tempo prima di poter calpestare la superficie per consentire alle stesse di fare presa in modo corretto, il che, tempo permettendo, fa presumere una riapertura di Corso Italia non prima della fine di maggio. Resta l'accesso pedonale in tutte le aree oggetto di cantiere. Non dovrebbero insorgere problemi tra il cantiere e il primo grande evento primaverile atteso in centro storico, ovvero il passaggio del Giro d'Italia e-bike il prossimo 13 maggio. I ciclisti infatti avranno un percorso che entra dai giardini, sale lungo Via Storelli e esce lungo Via Calai. Non mancheranno certamente alcuni disagi per le attività commerciali che chiedono tempi il più possibile a Snelli, Giove e Pluvio permettendo.